Ricordarmi la preghiera perché il Signore lo ha donato a noi come un artista che con la sua magistrale arte musicale ha onorato Napoli e lo ha fatto in una maniera discreta, senza protagonismi, senza eccessi, sapendone raccontare i volti, le contraddizioni, i chiaroscuri, le bellezze, i mille colori della nostra gente. Grazie